...a tutta la squadra di Aeroporti di Roma, al gruppo, al comune di Piumicino, che ovviamente ci fornisce questa possibilità di fare qualcosa utile per l'ambiente, per la comunità, soprattutto fare qualcosa insieme, che poi è lo spirito con cui oggi noi partecipiamo. Io sono l'orgoglioso rappresentante risorse umane di questo gruppo. Noi non siamo un gruppo numerosissimo, ma siamo molto volenterosi. E quindi ci mettiamo tutta la buona volontà e vi ringraziamo nuovamente. Grazie Giglio. E chiudiamo l'iniziativa in cui l'individuo, le aziende e le istituzioni insieme riescono a partecipare. Quindi grazie a voi con l'individuo, grazie alle persone che partecipano, grazie al comune di Ciro e il sindaco, che ci si mette insieme nelle forze migliori. Adesso andiamo a raccogliere. Grazie.